Dottor Fauci, grazie per essere con noi oggi e grazie per il suo tempo. Mi lascio cominciare ovviamente dal Covid, visto che in Italia stiamo di nuovo parlando di Covid, visto che i numeri stanno salendo. Siamo ovviamente lontani dalla pandemia e dall'emergenza globale di due anni fa. Comunque, gli scienziati ci stanno dicendo che la battaglia non è finita. Beh, la lotta non è finita per il semplice motivo che i contagi, i ricoveri e i decessi da Covid sono in aumento in tutto il mondo, Stati Uniti compresi. Negli Stati Uniti, ad esempio, secondo l'ultimo rapporto, si è registrato un aumento del 7,7% dei ricoveri e del 12-13% dei decessi. Si tratta di un livello molto più basso rispetto a quello registrato durante il picco dell'epidemia di un anno, un anno e mezzo e due anni fa. Quindi, nonostante l'aumento, le cose vanno molto meglio rispetto al passato. Tuttavia, il fatto che i casi continuino a salire, ci dice che il Covid non lo abbiamo ancora sconfitto. Noi non dobbiamo permettere che disturbi la nostra vita, che interferisca con le nostre normali attività nella società, a scuola o al lavoro. Dobbiamo però essere consapevoli del fatto che il virus non è scomparso e che, soprattutto per gli anziani, le donne in gravidanza e i soggetti fragili, esso possa ancora essere una malattia grave. Ed è per questo che negli Stati Uniti, e spero in tutto il mondo, stiamo rendendo disponibile il nuovo vaccino più aggiornato che è molto più orientato verso gli attuali ceppi circolanti del virus. Noi ricordiamo quindi alle persone, in particolare a quelle vulnerabili, come quelle che ho appena ricordato, che il vaccino è ora disponibile. Qui negli Stati Uniti è diventato disponibile una settimana fa e raccomandiamo di dotarsi di questa ulteriore protezione aggiuntiva ora che andiamo incontro all'autunno e all'inverno. In pratica lei ci sta dicendo che i nuovi vaccini sono in grado di sconfiggere le nuove forme di Covid. Esatto, perché se osserviamo quanto accade qui negli Stati Uniti, il sottogruppo principale è costituito da EG5 e FL1.5, mentre il resto è rappresentato da XBB, tutte varianti dell'omicron originale. Il vaccino attualmente disponibile è un vaccino XBB che ha ottime probabilità di assicurare una buona protezione contro il ceppo attualmente circolante. Esiste poi un virus totalmente nuovo chiamato VA2.86 che non si sta diffondendo rapidamente, ma che è presente in diversi paesi e in dieci stati degli Stati Uniti. Pur essendo un virus alquanto diverso, con molte mutazioni, i dati sperimentali indicano che anche questo virus può essere ben coperto dai vaccini attualmente disponibili, quelli aggiornati. Vede, dottor Fauci, abbiamo detto la parola chiave vaccini. È un dato di fatto che i vaccini hanno salvato milioni di vite. Nonostante questo, la comunità scientifica deve comunque fare i conti con attacchi, con le teorie più assurde che sono state diffuse in tutto il mondo. Come scienziato, come se lo spiega? Perché questo attacco contro i vaccini? È una bella domanda la sua, sulla quale ci si sta interrogando e alla quale non esiste una risposta facile. Diversi sono gli elementi che si sommano e che conducono a questo fenomeno. In primo luogo, c'è una tendenza generale all'antiscienza e all'antiautorità. Quanto meno negli Stati Uniti, le persone pensano che gli scienziati, quando formulano le loro raccomandazioni, lo facciano soprattutto per ragioni politiche e la polarizzazione dell'opinione pubblica impedisce di basarsi sui dati scientifici. in virtù delle libertà individuali, non vogliono che si dica loro cosa fare, anche se si tratta di una raccomandazione basata su solide evidenze scientifiche. Quindi, cosa davvero incresciosa, attaccano gli scienziati stessi. Come probabilmente lei saprà, negli Stati Uniti, io sono stato bersaglio di gruppi estremisti antiscienza, anche se, come ha osservato lei molto correttamente, nel corso dei decenni, i vaccini hanno salvato centinaia di milioni di vite. Insomma, è assolutamente paradossale e antitetico rispetto alla realtà il fatto che la gente si opponga ai vaccini, ma non soltanto ai vaccini, a tutta la scienza. viviamo un'atmosfera antiscienza che si fonda su quella che io definisco accettazione delle falsità da parte della società, la normalizzazione delle falsità, in cui qualcuno dice cose totalmente assurde, i social le diffondono e la gente crede che siano vere, come, ad esempio, quando si racconta che nei vaccini gli scienziati inseriscono i microchip per poter monitorare e controllare la popolazione, oppure che i vaccini uccidono più persone della malattia stessa, tutte cose che si diffondono sui social e quando si diffondono in modo così ampio la gente inizia a crederci. È davvero un peccato perché la libertà che le persone hanno di dire quello che vogliono è rafforzata dal fatto che ora possono dire tutto quello che vogliono anche se è assurdo e se ti opponi diventi il nemico. Sì, tu diventi il nemico. Anzi, dottor Fauci, lei stessa è diventato il nemico. Mi ricordo quando lei veniva attaccato anche dal presidente degli Stati Uniti o da Elon Musk o da questi gruppi estremisti che hanno addirittura minacciato la sua vita. ma così quali erano i suoi pensieri in quel momento? Essere attaccato dal presidente degli Stati Uniti non era proprio così facile. Ha mai pensato ok, adesso basta, mollo tutto? No, affatto. Perché io ho una motivazione alle spalle che non mi ha mai abbandonato per tutta la mia carriera professionale. Molti non lo sanno ma sono stato agli istituti nazionali di sanità per 54 anni, più di mezzo secolo. Sono stato direttore dell'istituto per le malattie infettive per quasi 40 anni. Che cosa mi ha spinto per tutto questo tempo? La mia missione, il mio obiettivo, la mia passione sono di proteggere e salvaguardare attraverso la scienza e la sanità pubblica la salute degli americani e, indirettamente, dato che gli Stati Uniti sono un paese leader nella sanità pubblica, salvaguardare la salute, il benessere e la sicurezza del mondo occupandomi di sanità. a livello internazionale. È questa la mia motivazione. Quindi, anche se venivo attaccato, ho ritenuto di preservare la mia integrità personale e professionale adempiendo ai miei doveri nei confronti dei cittadini del mio paese e del mondo. Non nei confronti di un determinato presidente o di un determinato partito politico, ma nei confronti dei cittadini del mondo, italiani compresi, ho ritenuto che fosse mio dovere dissentire a volte ed essere attaccato dal presidente degli Stati Uniti nell'espletare le mie funzioni di responsabile della sanità pubblica. Non ho mai pensato nemmeno per un momento di abbandonare, perché la mia responsabilità è nei confronti della popolazione. Sì, chiarissimo. Dottor Fauci, lei vede all'orizzonte, vicino, qualsiasi rischio di un'altra pandemia. Ci ha detto che il Covid è ancora lì, però insomma una pandemia che era come quella del Covid all'inizio, difficile da controllare com'era. Credo che la risposta sia sì a una parte della sua domanda. Sì, ci sono state pandemie anche prima della storia registrata, lo sappiamo, quando le civiltà sono state sconvolte da cose che non riuscivano a capire perché all'epoca non disponevamo ancora della teoria dei germi e delle malattie. Nella storia registrata abbiamo la pandemia del 1918, abbiamo una pandemia nel 1957, nel 1968, nel 2009. Possiamo prevedere con un certo grado di certezza che avremo un'altra pandemia. Quello che non possiamo prevedere è il momento in cui si verificherà ed è per questa ragione che dobbiamo essere preparati permanentemente. E questo è molto difficile perché quando non si sa quando qualcosa accadrà, a volte si perde interesse nella preparazione permanente. dobbiamo renderci conto che in questo momento in tutto il mondo nel quadro di un impegno globale dobbiamo essere preparati. Non possiamo impedire la comparsa di nuove epidemie ma possiamo evitare che i focolai iniziali diventino una pandemia. Questo significa preparazione alle pandemie. in futuro ci saranno sicuramente altre epidemie non necessariamente pandemie. Il nostro dovere come comunità internazionale è impedire che quelle epidemie diventino pandemie catastrofiche. Dottor Fauci so che abbiamo esaurito il nostro tempo ma lasci che le chieda se adesso che è uscito dall'amministrazione è in pensione insomma se c'è qualche modo in cui lei sta lavorando sulla sua eredità intellettuale anche perché dopo un periodo così estremo lascia una serie di lezioni out there. Sì in questo momento sono molto impegnato a scrivere un mio libro di memorie che spero di ultimare abbastanza presto. In questo libro di memorie racconterò tutta la mia storia non soltanto il covid ma tutte le cose che ho vissuto quando ho avuto l'opportunità e il privilegio di essere il consulente di sette presidenti degli Stati Uniti per oltre 40 anni. Questa credo sia l'esperienza che vorrei condividere con il mondo anche con i miei cari amici italiani. Quindi quando uscirà il mio libro di memorie sarò felice di venire in Italia a parlarne insieme. bene allora guardi che la consideriamo una promessa quindi appena esce la aspettiamo qui. Promesso. Grazie grazie ancora per il suo tempo grazie per quello che lei ha fatto per la nostra vita e quella di molte persone. Grazie mille è stato un piacere essere con voi grazie grazie a tutti. Grazie a tutti. grazie a tutti. Grazie a tutti.